Appena uscito dal Book Lab dove ha presentato il progetto il segretario regionale del CNA Alessio Stefanoni, adesso ci spiega quali sono stati i punti che ha trattato durante l'incontro che ha appena terminato. In qualità di responsabile regionale di CNA Federmoda abbiamo sottolineato in modo forte la grande vitalità della sartoria su misura in questa città che ha dato i Natali alla moda italiana ma che non ha ancora rinunciato nonostante le tante crisi industriali che questa città ha attraversato a distinguersi per l'eccellenza nella confezione di capi d'abbigliamento. Sono dati di fonte camerale, quindi non di parte sindacale, 1300 attività di confezione e abbigliamento sul territorio della città metropolitana di Torino, di queste più di 660 sono confezione su misura. Il 95% hanno come conduttrice una donna imprenditrice. Sono numeri importanti che ci dicono che ancora oggi nel 2024, mentre continuiamo a riempirci la bocca di automazione e di intelligenza artificiale, ci sono donne e uomini, sono artigiani che continuano a produrre con le loro mani in saldo connessione con la testa oggetti meravigliosi che vestono il nostro corpo.